Allora, devo dividere per me alla migliore truppe ragazzi, veramente Allora, con le più ferite, gruppo 1, mandare al campo base È un'abilità ragazzi straordinaria che è quello di colpire il nemico e farlo fuori Devo infatti beccare le sue abilità, effettivamente io sono un po' arrugginito con sto gioco Qua è andato pure l'altro Magari soltanto molta meccanica, non è che sia proprio il massimo Allora, facciamo così Allora, gruppo 1, non può essere questo il gruppo 1 Il gruppo 1 sono loro, e basta Gruppo 2 Un granatiere deve perderlo, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 Gruppo 3 Gruppo 3 Ci prendono loro 3 Quindi gruppo 3 completo Ok Ok, fortunatamente il LEC l'abbiamo recuperato I due pezzi d'artiglieria diventano il gruppo 4 ragazzi Ok, stavolta li facciamo camminare insieme Quindi gruppo 4 Il pezzo d'artiglieria Cerca di muoverti Più nell'ombra possibile Un po' di pazienza ragazzi, eh L'avventura un po' tosta Riprendere un gioco dopo tanto tempo e ricordarsi come funziona per bene Ok, loro sono utilissimi ragazzi con un po' di difese Ovviamente lui può costruire Potremmo costruire anche delle barricate Ovviamente un'altra officina, un'altra posta Un'altra area qua invece di far ritornare i tempi indietro Però c'è un'area Prestabilita E' anche il gioco, un'altra scena Sui binari non posso costruire Però posso costruire più lo sfidato qui O comunque Dei sacchi difensivi in quest'area Volendo Ricicci il caso di riuscire così In caso di ritirata Qualcuno che ci può dare una mano Certo ci vogliono mezzo secolo però Diciamo che prima è meglio ripristinare le unità Dove? Ok, l'altro Smiali Ok, adesso puoi completare i lavori al muretto Facciamo arrivare loro E stavolta ci muoviamo in massa Ragazzi Ci dividiamo magari Attacchiamo da due lati contemporaneamente Però Essere scoperti Soprattutto in fase di Col nemico che ha Della buona artiglieria Ad esempio questi qua ragazzi Sono Fortissimi Ma sono utili Soltanto contro i corazzati Basta che ci sono delle unità Con mitragliatrici Un po' come abbiamo visto con loro Che Apportualmente abbiamo recuperato Un pezzo di Di Mitragliatrice d'assalto Ora qui ragazzi Al centro Cercherò di fare l'avamposto O comunque Lo faccio qui Vediamo un po' Ti piace Paolo? Iron Harvest L'hai mai giocato? Soprattutto in fase di Cekamme la roscasi Gotov donna Mieszania celuv Non si è finito Quarta generale Avant forse Diminuzione esercito Insufficiente Ah mi serve uno slot E chi manda a caso? Soprattutto in Nadal Soprattutto in Inciąż Ddvigiamo Tę ciężką ammunizję Beh Devo sacrificare Per forza Un'unità Ok Dopo ragazzi Una devo sacrificarla Mi serve Uno slot Di Srozumiano Uno slot Libero Di unità Vediamo Con la scusa Ne approfittiamo Per Vedere Chi dice Qui a nord Sono già morti A meno che si portassero Con loro Uno di loro E invece Manco quello Manco quello Ragazzi Vabbè Adesso Abbiamo Lo slot Libero Andiamo a Costruire L'avamposto Che non posso Costruire Sui binari Quindi lo faccio Qua E dai Prima Ok Il secondo Il secondo avamposto Che ci avevano Richiesto Ragazzi Non so se Andate giù La connessione Ragazzi Perché non Vedevo più Né chat Né nulla Mi sentite Mi sentite No ragazzi Mi vedete Confermate Mi date feedback Ok Questo dovrebbe Sè il secondo Nel secondo Ne avevo costruito Un altro Qui Vabbè 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 Ragazzi Ne faccio Un altro Qui Un po' Esposto Un po' Inutile Drei Nie ma czegoś takiego Jak za mało Umocnień Liczy się Każdy Wysiłek Ewa Allora Mi sentite Ragazzi Mi vedete Cerco Conferma Su disco Vediamo Se qualcuno Mi conferma Nel frattempo Loro ragazzi Completano Il muretto Completiamo L'avamposto Ragazzi E si avanza Ciao Matteo Benvenuto Siamo Con la campagna Con la Polania 1920 Alternativo Contro i Rusviet Riprendiamo Airsoft E Airsoft Iron Iron Harvest Dopo Tre anni Ragazzi Tre anni Da quanto Iniziai Questa Partita Abbiamo Quasi Finito Il secondo Van Posto Quasi Pronto Perfetto Ragazzi Obiettivo Completato Ok Come al solito Loro Stanno Nelle Retrovie Si procede Ragazzi Con l'avanzato Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 Con l'artilleria Si piazzano Qui E ci prepariamo Matteo Sono tornati I comandi Eh vedremo Vedremo In quella guerra Che ricordo Non credo Che c'erano I mech Un po' Un po' Un po' Un po' Steampunk Avanziamo Ragazzi Abbiamo visto Che qua Ci sono Dei mezzi Del nemico No we Che frecuo La artilleria La artilleria Non perdere tutte le unità ragazzi in un suono assalto Sono due L Matteo sono due L Che assalto di merda ragazzi che sono riuscito a fare Sono fatto ammazzare tutti Vedi che funziona Ragazzi io non riesco a capire perché quale Se io avevo l'unità Qui Perché non c'è più Avevo i medici Girono i coglioni per questo sto gioco Ecco perché l'avevo anche abbandonato ragazzi Che è una minchia nei movimenti Soprattutto questo ragazzi perché è la prima versione Forse è un 1.0 che ho dovuto downgredare Si è sentito una passeggiata Una straccia vorresti dire Aha Potreba worków z plaskiem? Co ja bym dał żeby rozprostować nogi? Grenadierzy na rozkaz Gotowi Nowe rozkazy Grenadierzy gotowi Nowe rozkazy Nowe rozkazy Nowe rozkazy Ragazzi Se magari arriva un po' di supporto Esatto Solo non vedo il commento nella chat Perché? Cioè è un po' in ritardo il commento nella chat Matteo basta scrivere cmd Come vedi nel titolo della live Ti appaiono tutti Allora qui c'era un pezzo di artiglieria Che se avrei ucciso Soltanto i soldati Potevo recuperare Ma prima ci siamo a Ma come non ci sentono Matteo? Ci sentono e come? Cioè io li sento eh Poi magari non vengono captati live I putazzi Justo z fabryki